Sì, ho capito, dove devo andare? Devo fare il giro? No, devo andare dritto. Stiamo andando, stiamo andando. Sì, ho capito. Sì, ho capito, dove è qui? Da qua. Vedere loro che sono cresciuti insieme e sono insieme come una famiglia è molto bello. Simone e Mattia sono amici da quando erano proprio piccoli piccoli. Una cosa che mi piace è mettere insieme tante persone e vivere tutta l'energia insieme. Sì, ho capito. Sì, ho capito. Sì, ho capito.